Le strade innanzitutto, marciapiedi, alberi, io abito in un palazzo a quinto piano, mi arrivano i rami degli alberi e sono cinque anni che non li tagliano e dentro ci abbiamo tutte mosche, zanzare e tutto. Vogliamo avere una città turistica, poi è un macello, un macello come trasporto, è un macello il prezzo dei taxi, le strade sono quelle che sono. Le multe è una cosa circostante, ancora ieri hanno preso un'altra, hanno pagata, purtroppo lì è un divertimento ormai diventato, è anche un abuso più che altro. Multe ne ho prese anche in circostanze particolari, l'anno scorso che nevicava, quindi mi hanno dato la multa per una sosta, due minuti sono stati più vigili di me e questo mi fa molto arrabbiare. Si fanno forse tante cose per chi a Genova ha dato niente e quelli che per Genova hanno dato e hanno fatto ricevono meno. Le strade non sono a norma sia per la sicurezza sia per il camminare, per le buche ovviamente, poi c'è tanta roba lasciata in giro.